Cocaina VIP, 7 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex poliziotto terramano Ottavio Papili e 11 anni e 4 mesi per il calciatore ROM del Cologna Claudio Saccia. Dura la sentenza emessa ieri pomeriggio al Tribunale di Teramo nei confronti dei due nell'ultimo atto del processo con rito abbreviato che li ha visti imputati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, avendo per gli inquirenti gestito per anni un grosso giro di droga che aveva tra i suoi clienti diversi VIP della zona, anche i noti imprenditori. Il GUP Flavio Conciatori, in sostituzione del giudice Guendalina Buccella, ha stralciato solo la parte relativa all'aggravante del quantitativo di droga rinvenuto. Il Pubblico Ministero Laura Colica, nella precedenza di udienza, aveva chiesto per i due imputati rispettivamente 9 e 10 anni, ma ad aggravare la posizione del Saccia, difeso dagli avvocati Pier Giuseppe Sgure e Alessandro De Paulis, è stata la recidiva, mentre Papili, essendo incensurato, ha avuto un leggero sconto di pena. L'inchiesta dei carabinieri di Teramo era nata a seguito di alcune testimonianze di clienti del Papili e poi andata avanti dopo un lungo lavoro di intercettazioni telefoniche ambientali. Secondo gli inquirenti, il poliziotto aveva intessuto in diversi anni i rapporti di scambio relativo a stupefacenti, in particolare cocaina, con l'esponente di una delle famiglie rom della zona di Giulianova, Saccia appunto, che lo riforniva regolarmente. L'agente poi aveva assunto il ruolo di rifornitore di alcuni clienti nel capoluogo Teramano, molti dei quali finiti in difficoltà economiche a causa della dipendenza. Propri sui clienti avevano ricostruito il giro di affari di Papili, testimoniando davanti al giudice. All'ex poliziotto, che ricordiamo si trovava nel carcere di Santa Maria Capavetere, comunque sono stati concessi i domiciliari. Stessa sorte per Claudio Saccia, che però fino adesso era rimasto in regime di libertà.